Lunedì 12 ottobre 2020. Mancano 80 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Serafino. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Serafino. Il nome ha origine ebraica e significa angelo risplendente. Il numero porta fortuna è il 4, il colore è il viola e la pietra associata è l'ametista. Accadde oggi. Il 12 ottobre del 1946 l'Italia introduce l'inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Il canto degli italiani, vero nome dell'inno, è stato ufficializzato nel 2017 come inno nazionale ufficiale. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 12 ottobre ricordiamo il tenore Luciano Pavarotti e il cantautore Luca Carboni. La citazione del giorno. Nella vita abbondano i maschi ma scarseggiano gli uomini. Honoré de Balzac. Dice il saggio. Chi sbaglia la prima asola non si corregge abbottonandosi. Il bel paese. Poco distante da Sarteano, nel Senese, si trova la necropoli etrusca delle Pianacce. I reperti più sorprendenti furono rinvenuti nel 2003, quando gli archeologi trovarono la tomba della Quadriga Infernale. Questa grande tomba, risalente al IV secolo a.C., è decorata con una illustrazione di una parata funebre. Nella scena principale, la divinità etrusca Charun conduce un carro con due leoni e due grifoni, seguita da una scena con un tipico banchetto e poi da un grande e colorato serpente a tre teste. All'interno della tomba sono stati ritrovati preziosi vasi e oggetti oggi conservati nel Museo archeologico di Sarteano.